Ciao, io sono Yelena Lendia. Per questo Genfest io ho ballato con tutti gli indiani. Questo ballo è stato molto forte per me perché quello che abbiamo provato ad esprimere è quello che è la nostra realità, con tutta la diversità, tante religioni. Più di tutto dobbiamo celebrare questa diversità. Noi dobbiamo cercare per le cose che sono differenti ma invece dobbiamo cercare per le cose che sono simili. Questo è stato molto forte per me e per questo Genfest. Dopo il nostro ballo abbiamo fatto un time out e 12.000 persone in una sport arena. Tutto in silenzio per pensare e per pregare per questa pace è stato più forte per me. Ciao, sono Giovanni di Loppiano e sono qui come attore. Fino a 10 minuti fa ero sul palco e abbiamo fatto un piccolo pezzo recitato, durato 3 minuti. È stato un momento molto intenso, molto emozionante. Eravamo in due con un'altra giovane per un mondo unito e insieme abbiamo un po' espresso i dubbi e le domande che i giovani di oggi hanno in confronto al dolore. Rispetto al dolore e alle difficoltà che ci troviamo ogni giorno. È stato molto emozionante ma spero di aver rappresentato tutti e spero che tutti abbiano poi dopo trovato una risposta.